la quinta classico si appresta ad infrangere le regole del palazzo ci stiamo adentrando in quest'area dove l'ingresso non è consentito il rappresentante di classe ha stabilito fosse il caso di compiere questa infrazione esattamente gruppo rosso in avanzamento è increscita è increscita molto lentamente mi è increscita avete firmato il consenso informato e allora l'avete firmato voi eh ci hai tirato poi il suo modo quindi il risultato Sì